Tutto ruota attorno ai gravi fatti di cronaca che ha visto protagonista la capitale francese. I recentissimi atti terroristici hanno diviso l'opinione pubblica e politica. Se da una parte la Francia ha reagito colpendo la città siriana di Raqqa, considerata capitale dell'Isis, in Italia i pareri si dividono, soprattutto a livello locale. Proprio la Lega Nord, senza mezzi termini, chiede ad alta voce la chiusura delle frontiere attraverso una manifestazione indetta per la giornata di sabato prossimo al Brennero. Siamo di fronte ad una situazione fuori controllo. Il rischio è che, anche alla luce di quanto è accaduto a Parigi, in Italia arrivino persone non controllate. Allora noi diciamo che al confine del Brennero devono tornare i controlli. Ciò non vuol dire che dobbiamo fare le barriere o il filo spinato, ma devono tornare le forze dell'ordine che devono controllare chi entra dal nostro paese e anche chi esce, perché deve essere una forma di garanzia anche nei confronti dei paesi a noi confinanti. Proprio da Roma arrivano notizie confortanti. Il governo ha deciso in queste ore, come comunicato dal capo della polizia Alessandro Pansa, di potenziare i controlli da parte delle forze dell'ordine nelle zone di confine di Stato, ma anche sulle tratte autostradali. Abbiamo ulteriormente aumentato i controlli al confine, anche e soprattutto in ingresso, abbiamo potenziato anche i servizi in ambito autostradale. Sono tre specialità della Polizia di Stato, la Ferroviaria, la Stradale e le Frontiere, che sono particolarmente impegnate. Con il supporto, devo dire, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che quotidianamente ci fornisce dalle 20 alle 30 unità in uniforme, proprio per presidiare i luoghi più sensibili, ma che si avvale anche del contributo di sei specialisti in materia di immigrazione e dei reparti di prevenzione crimine, che ogni fine settimana, come avrete avuto modo di constatare, servono a potenziare il controllo del territorio in ambito cittadino, in particolare a Bolzano, a Merano e a Bressanone.